Penso che sia un organo che ritengo inutile, in quanto i cittadini stranieri hanno gli stessi diritti dei nostri cittadini e quindi possono tranquillamente essere rappresentati dagli attuali consiglieri comunali. Non vedo perché creare un ulteriore organismo che non ha senso. Le porte del comune sono sempre aperte e quindi possono tranquillamente riferirsi al sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali. Non vedo perché bisogna creare una commissione dove ci sono rappresentanze che poi come vengono fatte poi non si sa e se effettivamente questa attuale rappresentante sia quella che rappresenta in modo migliore il panorama molto complesso degli stranieri a Padova. Quindi io penso che invece il sindaco e l'amministrazione si possa tranquillamente rapportare come fa tutti i giorni con tutte le associazioni e tutti i rappresentanti anche delle varie compagini che ci sono a Padova di stranieri.